Cari amici di Teatro San Giovanni, venerdì 7 dicembre alle ore 21 la compagnia teatrale Giorgio Totola presenta Attento alla cioccolata Callaghan. La compagnia Giorgio Totola è una compagnia storica di Verona e grandi amici di Teatro San Giovanni, amici personali. Giorgio Totola agli inizi di Teatro San Giovanni ci incitava in questo lavoro, in questo sforzo che facciamo per la cultura. Andate avanti, lui ci ha lasciato prematuramente ma il nostro impegno è continuato. Vi aspettiamo a Teatro San Giovanni a vedere i Giorgio Totola con l'ispettore Callaghan. Cosa c'entra la cioccolata? Sì, viadrà.